La Toscana è prontissima, ne abbiamo parlato con il Ministro Speranza e siamo assolutamente d'accordo con quello che è stata una valutazione condivisa, cioè per le persone fragili, che voi ricordate furono anche oggetto della sollecitazione di tutto il Paese perché fossero vaccinate subito, delle persone fragili, dei primi fragili vaccinate, si parla da gennaio, e conseguentemente allora si davano i Pfizer che avevano come tempo 21 giorni. Quindi ci sono delle persone che si sono vaccinate a gennaio e addirittura all'inizio di febbraio avevano già la seconda dose. Sappiamo che il vaccino ha una capacità di immunizzazione che soprattutto per le persone fragili dai nove mesi di media si riduce anche a sei, sette mesi. Quindi è giusto che si proceda alla vaccinazione che in qualche modo riabilita un'immunizzazione maggiore dopo ormai molti mesi che sono state fatte la prima e la seconda dose. Accanto a questo, io l'ho detto al Ministro Speranza, dobbiamo prepararci sempre con quella ritualità del periodo che sono state fatte. quindi dopo sette, otto mesi per quello che sono le RSA, la Regione Toscana fu la prima ad arrivare a immunizzare al 100% gli anziani delle residenze sociali assistite. E quindi siamo anche fra i primi a dover rimettere la terza dose perché questi anziani possono essere coperti. È proprio di questi giorni la notizia di una RSA che ha riscontrato debole positività, ma comunque positività per una ventina di pazienti. Questo significa che ormai si sta arrivando a vedere calare il livello di immunizzazione per chi si è vaccinato sette, otto mesi fa. Per quello che riguarda il processo della terza dose sarà un processo molto graduale. Non immaginiamoci le file agli hub. Le persone hanno avuto un corso molto graduale nel pensare a quello che è il termine. Ancora non c'è nemmeno la legge che ti dice quanto deve essere la distanza dalla seconda dose per prescrivere la terza dose. Quindi non immaginiamoci un'altra campagna di vaccinazione come abbiamo vissuto di intensità da un punto di vista della massa. Lo stesso fatto della seconda dose. Quando noi partimmo i giorni per la seconda dose erano 21, poi diventarono 28. Poi anche per i Pfizer siamo arrivati ai tre mesi per la seconda dose. Voi capite che sono scalettate nel tempo e quindi diluite nel tempo le caratteristiche della somministrazione della seconda dose e questo chiaramente diluirà molto nel tempo. L'organizzazione vaccinale a cui pensiamo in futuro e quando parlo di futuro parlo dal mese di ottobre perché prima al 30 settembre noi procediamo così come siamo sarà quella di individuare dei luoghi in cui con capillarità ma contemporaneamente con la consapevolezza che le dosi giornaliere somministrate saranno meno di quelle che facciamo finora possa fare riferimento soprattutto a presidi sanitari.